Il centro sportivo non figura più come priorità per la Salernitana. La società ha deciso di non procedere con l'acquisto dei terreni di magazzino di Ponte Cagnano, come riportato dal mattino. La scelta è motivata dal rischio retrocessione e dalla conseguenza finanziare, spingendo il presidente Gliervolina a rinviare l'investimento. Nonostante ciò, l'ipotesi non è completamente abbandonata, ma attualmente il focus è club Granate sul prolungamento del fitto Meri-Rosi per i prossimi sei anni con gestione totale. Intanto continua la preparazione atletica. Pippo Inzaghi non potrà recuperare nessun giocatore in vista del Monday Night contro la Roma. Fazio prosegue il percorso di terapia e piscina per ridurre l'edema quadricipite, mentre Dia e Pirola lavorano separatamente per recuperare dagli infortuni muscolari patiti tra fine dicembre e inizio gennaio. Le assenze di Lassane e Cabral sono dovute alla Coppa d'Africa contro la Roma. Inzaghi dovrebbe confermare il modulo 4-3-2-1 con alcune novità di formazione. La mancanza di Fazio potrebbe portare Danulic a giocare dal primo minuto dopo due apparizioni contro Napoli e Genoa. L'ovato è oggetto di voci di mercato e forse non completamente concentrato, oltre ad essere reduci da una prestazione deludente contro Genoa. Guionber potrebbe affiancarlo. Sulla fascia destra potrebbe esserci l'esordio attitolare di Zanoli a posto di Pierozzi, mentre a sinistra Bradaric verrà confermato. In porta ci sarà Ochoa. Tre conferme potrebbero verificarsi a centrocampo. Martegani, autore di un gol domenica, potrebbe ottenere ulteriore fiducia insieme a Maggiore, ben visto dall'allenatore Basic, positivo nel suo sordo in maglia granata. La novità potrebbe essere nell'inserimento di Castanos sulla tre quarti, affiancando Candreva, considerata anche la prova deludente in Tauciana domenica scorsa. Simi, invece, dovrebbe confermare la sua presenza per la quarta partita consecutiva dall'inizio. Intanto, continuano i rumors di mercato, Jérôme Boateng è sempre più vicino, ma tutto dipenderà dalle uscite. Quindi trattativo in stand-by, in attesa di liberare uno slot e soprattutto di uno stipendio. Sempre vivo l'interesse per un calciatore mai sbocciato e molto discusso, ovvero Mario Balotelli. Attualmente Balotelli è un giocatore della Dana e l'agento Enzo Raiola, durante un'intervista a Maria Luisa Iacobelli per i canali social di Sport Mediaset, ha accennato a un possibile ritorno in Serie A a gennaio. Pur sottolineando che nulla è imminente, Raiola ha menzionato un progetto in corso e ha dichiarato che Balotelli è attualmente legato al club. Quando interrogato sulla possibilità di un ritorno in Italia, l'agento ha dichiarato una percentuale del 5%, specificando che si tratta di una stima prudente. Insomma, porta aperte per un ritorno in Italia, da capire se lui potrà essere giocatore adatto a salvare la Salernitana con i suoi gol.